Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, ricordiamo la chiusura per lavori del tratto compreso tra Aglio e Roncovilaccio in direzione nord. Per la mobilità il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Con guarda il trasporto pubblico locale per motivi legati al Covid, quest'oggi è prevista l'assenza di 328 conducenti sul territorio regionale, sono possibili tagli al servizio. Sempre in tema di trasporto pubblico locale, un tratto della linea T1 della tramvia di Firenze sarà sospesa questa notte dalle 22 fino a fine servizio. In particolare il tratto interessato è quello compreso tra la fermata Federiga e il capolinea Villa Costanza. Il servizio sarà garantito con bus sostitutivo. Muoversi in Toscana-Linfio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.